L'agricoltura comprende il danno atmosferico, è un rischio che noi accettiamo e lo sappiamo, che un anno ogni 5, ogni 6, ogni 7 ci sia questa avversità atmosferica. Il problema è che non possiamo guadagnare negli anni buoni dei soldi per superare la crisi. Inizia la conta dei danni dopo la bomba d'acqua che si è battuta sul territorio cortonese e che è messo in ginocchio l'agricoltura. Qui era assolutamente tutto allagato. Abbiamo alcune aziende con raccolti di cereali rovinati, in alcuni casi si arriva anche al 50% del raccolto rovinato. Abbiamo alcune aziende che hanno avuto degli allagamenti negli annessi agricoli. Abbiamo alcuni muretti a secco che sono stati divelti dalla forza dell'acqua. Siamo qui a contare i danni. Lo scorso martedì sera solamente in un'ora e mezzo sono caduti 140 mm di acqua e così andato distrutto parte del raccolto. In grosso modo 10 secchi, 10-15 secchi di acqua. Però su un terreno già bagnato, che quindi aveva una scarsa capacità di ricevimento dell'ulteriore acqua. Le frazioni del cortonese più colpite sono quella del riccio, di teronto, la petraia ed infine ossaia. I danni maggiori si sono registrati nelle colture di grano e di girasole. A causa della forte pioggia, la pianta, il culmo si è piegato, quindi si è rotto alla base. E in questa maniera qui, essendo nella fase di maturazione della granella, non è più in grado di risollevarsi. E poi la cultura si trova nelle condizioni in cui si possono sviluppare malattie fungine. Il comune di Cortona ha chiesto alla regione toscana lo stato di calamità naturale per i danni causati dal violento acquazzone. Appello a cui fanno eco anche gli agricoltori cortonesi. Auspichiamo degli indennizi che siano davvero proporzionati al danno. Auspichiamo anche degli sgravi, altrimenti l'economia agricola farà fatica a stare in piedi.